Go! Questa è la situazione con Arachmetto Pobras. No! Intanto c'è stato un contatto. Ha fatto ritardare diversi piloti. Ecco vediamo il passaggio al primo giro. Certo è la un'altra parte in Trasso del Tommaso. Ohno, va a�가er, e vi rimando il primo giro. Ho troppo way, e vi rimando il primo giro. Oh no, mi rimando il primo giro, mi rimando il primo giro e il primo giro. Ho troppo contento, Beh, a Jacobi ha fatto ritardare il primo giro. Alla fuori di Trasso del giro, Allora... ... ... Settimo, attenzione, potremmo assistere a una grande sorpresa. Incredibile. Il problema è che i sorpassi non sono così facili con questi piloti davanti e quindi per Iakou un nuovo attirizzando. Dificile ma attenzione, non è un tantissimo per la squadra di un fulcro. Non è un progetto per la quinta posizione. Iakou sui benefici in ferite final! Un altro caso, con il tuo raccetto, spesso con questo come qua va! Spesso con il colpa. Il ciclo 43, Burt Ziegler ha una ruota danneggiata e poi è finita la gara. E quindi, anche su, dentro il pomando, la grande gara della pilota di un'azione europeo. E' una battaglia fantastica per la quinta posizione. Eccoli che stanno arrivando al San Mandino. E' pronta la bandiera a scacchi per celebrare la vittoria di un fantastico pilota. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.